Liberare una vena e riaprire la speranza per i malati di sclerosi multipla. Speranza di liberarsi con un'operazione chirurgica dalle difficoltà di camminare, dalla perdita di sensibilità agli arti, dalla difficoltà di parlare o deglutire. L'intervento è l'angioplastica per riaprire le vene del collo e del torace che fanno defluire il sangue dal cervello al cuore. Questa pratica medica è conosciuta anche come metodo Zamboni, che prende il nome dal professore che ha operato numerosi malati di sclerosi multipla con queste anomalie delle vene, il cui termine tecnico è insufficienza venosa cerebrospinale cronica. Il dottore Alessandro Rosa è un giovane medico che ha il suo studio nella città di Benevento ed è specializzato nel metodo Zamboni. In cosa consiste la scoperta del dottor Zamboni? Il professor Zamboni ha scoperto una malformazione venosa vascolare a livello dei vasi del collo e intracranico che si ritrova nel 90% dei pazienti che hanno la sclerosi multipla e nell'8% dei pazienti sani. Consiste nello studio dei vasi del collo che si è visto hanno delle malformazioni rappresentate da annulus, da stenosi che sono dei restringimenti o dalla presenza di setti. Quindi si ha un'inversione del sangue che si deposita a livello cerebrale e pare determina la formazione di accumulo di cataboliti e quindi di ferro responsabile poi della sclerosi multipla. È un metodo innovativo ed è lo studio di una patologia nuova che non conoscevamo fino a due anni fa e che viene effettuata con una diagnosi particolare che si chiama ecocolordoppler che è lo studio dei vasi sanguigni. È un esame che va fatto però solo con una particolare macchina che si chiama MyLabVinco dell'ESAOTE. In Campania ce ne sono cinque e questa macchina ha l'esclusività di un software che si chiama QDP attraverso il quale possiamo visualizzare l'inversione del flusso cosa che con altre macchine non è possibile effettuare. Il metodo Zamboni è ancora in fase sperimentale al momento però interventi su pazienti con sclerosi multipla stanno dando risultati incoraggianti. C'è stata gente che ha ripreso la sensibilità tattile c'è stata gente che ha ripreso nuovamente il movimento delle mani che non aveva solo attraverso l'angioplastica quindi l'intervento è stato risolutivo. Parliamo di numeri, come sono i dati? Gli studi effettuati negli ultimi due anni hanno riscontrato questa patologia nel 90% all'incirca dei pazienti con sclerosi multipla e nell'8% dei pazienti sani. C'è una differenza tra uomo e donna? No, al momento non è stata riscontrata, è indifferente. Ed età invece? Prettamente insorge nei giovani ma comunque nella gran parte dei pazienti con sclerosi multipla. Si tratta quindi di una scoperta innovativa anche se in via sperimentale, giusto? È una scoperta innovativa, sperimentale. Adesso iniziano gli studi e adesso vedremo i primi risultati. Grazie. Grazie. Grazie.